E' il momento della cultura con la presentazione di un libro Ombra e riflesso del leader invisibile con Enrico Corgiolo che sarà presente a Palermo presso la libreria Feltrinelli il 3 aprile in via Cavour 133 a partire dalle ore 18. Interverrà anche il professore Francesco Pace, docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l'Università degli Studi di Palermo. Ascoltiamo Enrico Corgiolo, autore del libro. Il mio nuovo libro Ombra e riflesso del leader invisibile esplora le caratteristiche chiave di un leader efficace e quello che è il suo ruolo fondamentale nel mondo del lavoro. Basandomi sulla mia lunga esperienza nelle risorse emane ho imparato che un leader non è solo un capo ma è una guida che valorizza e responsabilizza le proprie persone e crea un ambiente di lavoro positivo. Attraverso le pagine del libro condivido le storie e le esperienze che mi hanno ispirato in questo percorso professionale e dimostro come la dedizione, l'adattabilità e la capacità di ispirare possono portare al successo. Vi invito dunque ad unirvi a me in questo viaggio verso la scoperta del leader invisibile che risplende attraverso l'esempio e le esperienze.